Dal Natale al Carnevale il passo è breve, in diretta alle 20.53 all'interno del nostro telegiornale, come è già stato annunciato abbondantemente, in collegamento diretto con la sede dell'ente carnevalesca di Fano. Vedo già Simona Zonghetti con il Presidente Luciano Cecchini e immagino alcuni consiglieri pronti per l'estrazione di una tessera socio, ma ci spiega adesso meglio nel dettaglio Simona. Sì Marco buonasera a tutti, come dicevi poc'anzi mi trovo nella sede dell'ente carnevalesca, le ampolle ci sono, i dolciumi non mancano, qui è tutto pronto, non manca nemmeno il Presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini, anche io ho portato alla mia tessera perché ovviamente Fano TV sostiene il carnevale di Fano. Presidente, allora quanti sono i soci ad oggi? Allora ad oggi abbiamo già superato i 500 soci, cosa mai successa perché in poco più di 10 giorni abbiamo già superato i 500, questa è la prima estrazione di una lunga serie perché ogni 300 soci faremo appunto l'estrazione abbinata ad un posto getto. I fanesi tanto tempo che sognano di salire su un carro e gettare i tanti quintali di dolciumi perugina. Ecco questa sera vedremo chi sarà il primo socio dell'ente carnevalesca fortunato e se non siete fortunati stasera vi ricordo anche le altre estrazioni parteciperete ugualmente. Una piccola curiosità, il socio più giovane pensate ha soltanto due anni e dieci mesi. Allora questa sera chi facciamo estrarre? Allora stasera sono già pronti, abbiamo il nostro sponsor, sponsor dolce, questa iniziativa del panettone che è andata a Ruba che in 4 giorni si ha fatto fare più di 300 immediati soci della carnevalesca, i fratelli Cavazzoni della pasticceria Cavazzoni che ci hanno dato i panettoni. Poi abbiamo il nostro amico ormai, il notaio Colangeli Dario che è sempre con noi per tutte le estrazioni e ce ne manca una Simona. Stasera ti diamo l'onore di girare le palle anche a te. Va bene, lo farò. Allora mi posiziono dietro il tavolino una battuta Matteo, fino a quando si può ritirare il panettone? Ah, dopo Natale, fino a gennaio. Perfetto, non mancheremo, passeremo a prenderlo. Ci siamo, Presidente Dalvia. Ok, girate le palle. Giriamo. Girate, girate. I miei consiglieri sono pronti. Ci sono i consiglieri che apriranno le ampolle. Prego. Noi che prenderanno poi al numero. Grazie, aprite. Ovviamente partiamo dalle centinaia. Grazie. Ognuno di estrarre una palla. Grazie. Andiamo. Vediamo chi sarà il fortunato. Uno, due, tre. Io ce l'ho. Un attimo. Fate vedere le palline. Aprite le palline. Chiedo gentilmente a Nino se mi può aprire anche la mia palla. Perché vi diremo in diretta anche... Anche nome e cognome, esatto. Ci siamo. Noi, ci diamo un po'. Perfetto. Fate vedere. Fate vedere l'autorario. Ovviamente. Poi le posizioniamo davanti alla telecamera. Lo tengo. Grazie. Ok. Questo che è l'uno. E tu? Cinque, zero. Signori, signori, il socio fortunato è il possessore della tessera 150. Uno, cinque, zero. Controlliamo subito perché sapete se appartiene ad un consigliere dell'ente. E chiaramente, ripetiamo l'estrazione. Ecco, fate rivedere i numeri per cortesia. Allora, il socio fortunato si chiama Cardinali Alessandro e abita a Fano e lo chiamiamo subito. Leo, prova. In diretta, proviamo a chiamarlo direttamente, speriamo che sta guardando Fano TV, altrimenti cerchiamo di raggiungerlo per avere anche un suo commento a caldo. Ricordiamo anche che è possibile regalare questa tessera per il Natale, visto che siamo nel periodo degli acquisti. Allora, approfittate perché subito dopo i panettoni, la prossima estrazione è abbinata. Avete già avuto tante bottiglie di vino, grazie alla collaborazione dell'azienda agricola Guerrieri, che vi aspetta al sud di Piagge, dove potete trovare tanti prodotti della nostra terra. Continueremo questa promozione abbinata alla vostra tessera, la bottiglia, appunto, di vino bianchello di Guerrieri. È importante, è fondamentale e vi ricordo che anche sabato e domenica il nostro infopoint vi aspetta in piazza 20 settembre oppure qui alla sede della Carnevalesca. Con sole 10 euro, ripeto, 10 euro, potete sostenere il Carnevale di Fano, avere tanti, 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 tanti premi e abbiamo il vincitore in diretta. Ce l'abbiamo in diretta, ci parla il Presidente. Allora, carissimo Alessandro Cardinali, è possibile metterlo in viva voce? Ci proviamo, sì, lo mettiamo in viva voce, almeno sentiamo anche il commento di Alessandro. Siamo in diretta su Fano TV, eh? Allora, siamo in diretta su Fano TV. Ecco l'annuncio ufficiale. Cardinali Alessandro, sei tu, è vero? Ecco, hai fatto la tessera, hai la tessera 150 e tu sarai il primo, il primo a salire sul carro a fare il getto quest'anno. Sei contento? Allora, fai un saluto, cerca di parlare forte perché ci proviamo su Fano TV, ti stanno guardando e sentendo, più che guardando sentendo. Prova a dire e viva il Carnevale di Fano, quello che vuoi. Va bene, va bene. Non si sente, non si sente, non ce la facciamo, poi lo riracconteremo. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie a voi, buona serata, buon proseguimento. Grazie, grazie.